buongiorno e buona domenica a tutti i cari amici ben ritrovati a quest'edetta appuntamento con il dubbio buongiorno pietro ben trovato buongiorno buongiorno a tutti buona domenica tutto bene diciamo di sì siamo giunti al quindici settembre pietro quindi la seconda domenica di questo settembre dopo l'agosto caldo che abbiamo avuto pietro oggi parliamo di qualcosa che è accaduto qualche giorno fa una commemorazione che c'è stata qualche giorno fa è precisamente l'undici settembre che è riposto il ventitresimo anniversario della strage delle torre gemelle nel due è avvenuto il 2001 negli stati uniti in realtà ho quattro aeree di linea delle più grosse compagnie statunitense furono dirottati con ben 19 per due di queste aeree furono scopati scontrare contro le torri di una gemelle come torre gemelle torri nord e torre sud del world tra del set e al centro di malattie malattie che in poco più di un'ora e quaranta minuti però lavorano su se stesse e i detriti e gli ingenti che causarono fecero colorare un po quasi tutto il complesso del world un terzo aereo fu fatto schiamare contro il pentagono e precisamente contro la sede del dipartimento della difesa dove in virginia dove l'attacco causò il crollo di una parete della facciata del pentagono in quarta aereo che fortunatamente fortunatamente non raggiunse dipende che poteva voleva raggiungere o il campedoglio o la casa bianca andò a schiandarsi in un campo dicono che grazie alla eroica rivolta dei passeggeri che si scagliarono contro gli attentatori e l'aereo non raggiunse il suo ma andiamo sul fatto cosa è successo poi da quella data perché poi da quella data si è innescato tutto un meccanismo che ha sconvolto un po stravolto la politica estera se così possiamo dire americana e quella poi mondiale globale perché da lì è partito si è innescato tutto i due mila e novecentosettantassette vittime e circa 6.000 persone ehm ferite con poi volte delle quali sono morti in seguito a intossicazioni tumori alle polvere che hanno respirato e quant'altro hanno portato che agli Stati Uniti a eh aprire il nuovo sistema di tutela di autotutela autodifesca interna ed esterna ancora più e che ha coinvolto quest'ultima molte se non tutto il mondo ricordiamo che in seguito a questa questi quattro attentati si è scatenato una forse delle guerre due delle guerre più lunghe per gli Stati Uniti fuori dal dal proprio territorio ricordiamo la guerra e l'invasione più che guerra l'invasione dobbiamo dire dell'Afghanistan e dell'Irak e subito dopo con la morte di centinaia di migliaia di afghani di soldati americani marinze e quant'altro che poi ecco ha nell'insieme portato anche la morte di tanti giovani militari tanti militari delle forze cosiddette forze di dietro questo è quello che la storia ci racconta tu già sorridi già stai stai hai raccontato una favoletta quello che la storia ci racconta la storia si scrive un po' più davanti che comunque la scriveranno così la scriveranno e questa diciamo è la favoletta che viene cambiata poi in storia forse perché la verità è tutt'altro è tutta da un'altra parte come si sono l'unica cosa certa purtroppo come al solito sono i morti è una scena più scene più immagini che sono raccapriccianti immaginate chi era ai piani oltre non poteva scendere le scale non poteva ehm prendeva ascensore qualcuno si è buttato dalla desperazione ma ovviamente queste sono è l'unica verità che è stata detta i morti i morti innocenti i morti assolutamente assolutamente e allora continuano a dire in molti l'ho sentito anche un grande vado grande a uno che fa dei programmi scientifici importanti sulla sulla rete nazionale dai compreso lui e il padre facevano cose paurose che hanno detto che le torre cadute erano due no le torre cadute erano tre soltanto che non riescono a giustificare come mai due aeree ammesso che piloti poco addestrate riescano a centrare due aeree due torre ma dicono che sia molto difficile ma diciamo che sia sia poco addestrata diciamo tutto quello che vogliamo la terza torre è comunque crollata che è crollata per solitudine si sentiva sola era dispiaciuto perché erano crollate quelle altre da quello che si legge sembra che sia caduta in seguito all'esplosione allora in seguito all'esplosione interna di quello dell'esplosivo che hanno messo all'interno delle torre quindi è qualcosa che è venuto dall'interno tu stai dicendo io dico quello che dicono dicono molti ingegneri molte molti analisti si è frantumato tutto non ci sono pezzi e tutto polverizzato abbiamo visto all'epoca ricordo che abbiamo visto le immagini proprio che possono far vedere quello che ti pare a me che ti possono far vedere che dentro ci stavano le ma dall'esterno dall'esterno si è visto proprio che con un lato sono tutti loro l'ingegnere che costruisce una torre che le cade un'altra vicina e quella cade pure l'ingegnere c'è forza bastava ragionare subito ma la cosa ancora più strana non dico altro perché anche lì qualcuno è morto un aereo riesce ad abbassarsi così tanto da colpire le mura del pentagono che per quanto alte e fa un buchetto di 20 30 metri non si vede un'ara non si vede un pezzo d'aereo l'ho messo lì per caso ma immaginate un aereo di quel genere che ammesso che sia possibile e non lo è colpire il muro del pentagono e fare un buchetto di 20 30 metri ma lo ritenete possibile farci prendere in giro così e allora questo questo evento è un evento che deve far pensare e e io personalmente che sono il noto complutista si sa già ormai queste 20 anni a questa parte si dice se a per albur è stato lasciato fare quel momento di aggressione è stato lasciato fare perché questo è per cominciare la seconda guerra mondiale se si continua col golfo del tonchino per cominciare la guerra in Corea di Etina per farsi ancora dire beh ci hanno attaccato se cominciamo a ragionare in questi termini ci mettiamo anche l'11 settembre ogni volta che ci sono questi eventi stranamente o che caso cominciano le guerre naturalmente per esportare democrazia e ne hanno esportata talmente tanta che per loro non è rimasta propria. Ebbene vi devo citare un fatto che questo è un fatto ufficiale perché mentre in Italia è impossibile desegretare i documenti che possono servire ebbene negli Stati Uniti è stata desegretata una deposizione di un investigatore alla commissione militare che è stata fatta all'epoca. C'era un certo O'Neill che era un agente dell'intelligence che aveva fiutato la pista giusta per individuare e impedire gli attacchi o pseudo attacchi ma fu ostacolato nelle sue indagini proprio dalla CIA. Poi fu licenziato dall'FBI e fu assunto al World Trade Center come responsabile della sicurezza e dove purtroppo era nel numero delle vittime e tutti i segreti che conosceva c'è stato messo su una pietra tombale. senza l'evento del World Trade Center la guerra in Afghanistan contro Al-Qaeda, messo che anche Al-Qaeda del Medio Oriente che culminò con la farsa delle primavere arabe delle quali probabilmente ne parleremo in una prossima puntata. Questa documentazione della quale oggi vi sto parlando è stata desegretata e basata sulla deposizione di Donald C. Canestraro che era questo famoso investigatore assegnata all'Office of Military Commission che era un agente federale della DEA, un'altra organizzazione interna che sarebbe la droga infermose dell'administration. Beh, anche questo è stato occultato perché dalla sua testimonianza sotto il giuramento emerge il ruolo occulto nell'Arabia Saudita nel favorire gli attentatori, come già sapevano i documenti in possesso dell'FBI, che potrebbe essere stato uno dei momenti per la brutale uccisione del giornalista Kamala Khashoggi. Capite quante cose si vanno a intrecciare. Anche i documenti declassificati dal Canada esce fuori una cosa del genere, ma lì è ancora più ampio perché parlano di un trigo internazionale della triade al-Qaeda, Sauditi e CIA che era stata già collaudata negli anni 90 nella guerra dei Balcani e nell'ex Jugoslavia. Non a caso un poliziotto italiano, che è scritto per cronaca, comandante della forza di pace in Borgna, poi divenuto agendio dell'Interpol in Medio Oriente, ha scritto e intitolato un libro califato d'Europa. Beh, questa archiviazione di tutte queste notizie sì c'è stata, ma oggi siamo a conoscenza di tutte queste informazioni che già avevamo intuito, perché sono state lì declassificate, sono bastate 24 anni, 23 anni. In Italia ci sono segreti di Stato che resistono a oltre 80 anni. Certo, è vero che siamo non una colonia, ma serve, però almeno dateci le stesse possibilità di quelle che sono i nostri tutori. Dopo soltanto 23 anni queste informazioni segretate sono state desecretate. Diciamole ai nostri governanti, ai nostri amministratori controterzi che prendono esempio da quello che è successo anche oltreoceano, non soltanto per andare a genuflettersi a ogni cambio di governo, ma anche per dire, beh, fateci fare come avete fatto voi, almeno copiate, almeno copiate, non 23 anni, oltre 80 anni di segreti di Stato che non sia la decenza di portarle al cospetto del popolo mai sovrano. E con questa considerazione finiamo il dubbio di oggi. Aspetto Pietro, allora abbiamo raccontato ciò che non hanno detto, che non è stato raccontato, ciò che forse è all'origine di questi attentati che hanno portato poi allo scoppio, come tu hai ricordato, di nuove guerre, di nuove conflitti che sono costate soltanto vittime innocenti, sia da una parte che dall'altra, militari, militari, cittadini, bambini, donne, forze di pace che portano la pace, quindi vittime innocenti, che servono una bandita, servono uno stato, hanno fatto un giuramento e sono, tra virgolette, costretti a fare ciò. Però alla fine è sempre il discorso della nostra libertà, di un popolo sovrano che ancora oggi non riusciamo ad avere come cittadini italiani. Grazie Pietro di questa tua riflessione di questa domenica, una buona domenica a tutti i nostri radio e telespettatori, appuntamento alla prossima settimana e buona continuazione. Grazie a tutti!